Mater cremettissima, un labbra uno a vis, in terce ne progavi, al momento in Jesus. Nu, un labbra uno a vis, 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 Grazie a tutti 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 Il nostro corso è il nostro corso. Guardate il cammino di piso. No, la trasera. Come viene il passo a la izquierda avanza, la derecha avanza. Poco a poco a la izquierda avanza. Bueno, a la izquierda avanza. Bueno, pararse ahí, señores. Enhorabuena. Delevo, nos vemos. El sábado a las 11 de la mañana. Delevo. 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 No. Domenico. Cattaro. Delevo. Grazie a tutti. 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 . a tutti. . a tutti. a tutti. a tutti.